18 persone in manetta e 12 delle quali in carcere, 5 agli arresti domiciliari, un ricercato, 43 indagati a piede libero. Fra gli arrestati due ex assessori regionali, due alti dirigenti della stessa regione, poi funzionari di enti di formazione, pubblicitari, titolari di varie società, vere o fantasma. Ancora fra gli indagati una ventina di politici, fra cui 7 ex assessori regionali, altri funzionari di prima e seconda fascia dirigenziale. Beni per 35 milioni di euro sottoposti a sequestro preventivo. E' un vero e proprio terremoto annunciato, quello operato dalla Guardia di Finanza al termine di due anni di indagini. Sotto esame l'operato dell'ente di formazione Ciappi di Palermo che avrebbe truffato i fondi comunitari e i grandi eventi della regione siciliana. Due inchieste che sono confluite l'una nell'altra, malagestio e grandi eventi appunto. Truffa, corruzione, concussione, illecito finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali, riciclaggio e i reati contestati. Personaggio cruciale Faustino Giacchetto, arrestato insieme alla moglie Concetta Argento e dalla segretaria Stefania Scaduto. Manette anche per gli ex assessori regionali Luigi Gentile e Gian Maria Sparma, per l'ex dirigente generale Rino Lonigro, per il funzionario Francesco Riggio, per i pubblicitari Pietro Messina e per l'ex PID Domenico Di Carlo. Avrebbero truffato la comunità europea attraverso fondi utilizzati formalmente per un progetto di formazione del Ciappi, ma in realtà coperti con false fatture allo scopo di creare fondi neri, per un valore di circa 15 milioni di euro. 200 le persone assunte per non lavorare. Con i fondi neri, poi, Giacchetto pagava benefit ai politici e ai funzionari per ottenere canali privilegiati nelle gare per i grandi eventi. Fra questi anche testere VIP dello stadio, per la cui concessione, fatturata falsamente come pubblicità fatta dal Palermo al Ciappi, è indagato anche l'amministratore delegato del Palermo Calcio, Rinaldo Sagramola. Sui grandi eventi, poi, il grande lucro, soprattutto su organizzazioni in larga scala, come i mondiali di scherma, gli opening femminili di golf, gli eventi ciclistici del 2010, il Taormina Fashion del 2011. Episodi di corruzione e di finanziamento illecito andati dal 2008 fino ai primi mesi del 2013. Un sistema complessivo, certo, molto inquietante, perché è legato anche alla distrazione dei fondi europei, che dovrebbero rappresentare una speranza di progresso per la Sicilia, e che invece, purtroppo, molto spesso si rivelano oggetto di queste distrazioni improprie. Ovviamente queste operazioni possono avere successo se anche c'è una certa complicità interna da parte di coloro che dovrebbero vigilare o che dovrebbero promuovere o monitorare queste attività e che invece, per le più varie ragioni, in qualche caso per vera e propria corruzione, in altre per effetto di finanziamenti illeciti dovuti alle campagne elettorali, evidentemente non hanno svolto appieno il loro dovere. Ecco i politici indagati, sono gli ex assessori al lavoro Carmelo Incardona e Santi Formica, l'ex consigliere comunale di Palermo Gerlando e Inzerillo, che sono chiamati in causa per corruzione. Di finanziamento illecito i partiti devono invece rispondere Salvatore Sanfilippo, Lino Leanza, ex assessore al lavoro anche lui, Gaspare Vitrano del PD, indagato anche per un'altra vicenda, Salvino Caputo, ex deputato regionale del PDL, di recente decaduto dall'Assemblea regionale per una condanna definitiva per abuso d'ufficio, Nino Dina, deputato regionale dell'Udc, salvo a lotta del PD.